La sentite, questa musica, benvenuti, trentasesimo episodio di Pokémon Xenoverse, pronti per conquistare l'Olimpo, un bel mi piace, adesso, perché oggi affronteremo i Titani, ormai lo sapete, questo gioco mi ha preso come non mai, e quindi, post game sia, vi porterò degli episodi di post game mischiati con altre serie che vi porto normalmente sul canale, quindi da giovedì la Maxlock torna sul canale e dopo di che continueremo il post game, probabilmente farò degli episodi molto concentrati così da chiudere questa serie verso i 40 video. Raga, joystick alla mano, eh sì, è arrivato il momento, eccoci, è inutile che ve lo dica Federick Store, link in descrizione, quello sempre, sempre. E grazie a tutti perché anche questo mese di gennaio lo chiudiamo veramente in bellezza, grazie per tutto il supporto che date ogni giorno a questo fantastico shop che cresce grazie a voi. Raga, ci saranno grandi novità per il 25esimo anniversario, quindi tenetevi forte. Ho camminato in lungo e in largo, ma di quell'anticolo idolo d'acqua neanche l'ombra. Idolo d'acqua, eh. Ragazzi, c'è un'ulteriore grotta. Allora, entriamo. Allora, vuoi che frughi nelle memorie dei tuoi Pokémon? Non adesso. Mnemonio, anche qui. Alla lega Pokémon! Come dico sempre. Facciamo una scorpacciata? Eh sì, ragazzi. Credo di averne bisogno, perché da qui non si torna indietro. Almeno credo. Queste le prendo già adesso, perché ci serviranno per il post game. Per tutti i leggendari. Qualche revitalizzante. Che fai? Te ne privi. E infine, vediamo se hanno qualche Elisir o Etere. Elisir. Costa un bel po', ma ne voglio abbastanza. Tanto ho tantissime cose da vendere. Ora, mi curo la squadra. Entriamo e scopriamo il nostro destino. Vai! Allora, decideremo al momento il nostro Pokémon da mandare in campo. Quindi per ora lascio Hancen. Attenzione! Accedendo al Monte Zodiaco, non potrei utilizzare un centro Pokémon o fare acquisti per l'intera scalata. Senza inducio. Siamo sul Monte Zodiaco. O meglio, ci stiamo avvicinando sempre di più alla vetta. Il repellente non serve più. Ci sono delle lanterne. Corriamo! E vediamo cosa ci attende. Ah, mamma mia, l'hype alle stelle. Vi ricordate? Un mese fa abbiamo iniziato questa avventura. Probabilmente questa è diventata come una serie Netflix. Fantastico, guarda. Adoro lasciare questo tipo di video sul canale che poi nel tempo veramente me li riguardo anch'io perché sono serie super super apprezzate. Allora, qui abbiamo il primo varco. Ma se potrebbe ancora continuare? Oh, è bloccato? È bloccato. Allora, andiamo qua e vediamo cosa ci attende. Una nostra vecchia conoscenza. Chua, ti do il benvenuto. Prescelto. Allora, ragazzi, di che tipo avrà questi Pokémon? Io presumo li abbia di tipo Erba. Quindi il più ideale sarà Trishat o Harruk. Comunque valuteremo la situazione perché potremo anche utilizzare Rexquim. Vediamo, vediamo, vediamo. Vai! Per anni ho custodito il Tempio Shileon nella speranza di fare ritorno in questa terra santa. Un giorno, una landa in cui il supremo Luxplon plasma la terra su misura per i suoi cardinali. A quanto di più alto può aspirare un uomo prescelto? È infine per merito tuo che io giaccio qui, in grembo al monte zodiaco. Ebbene, tieniti pronto. Ti mostrerò la mia gratitudine in un efferrato scontro senza esclusione di colpi. E parte la prima sfida. Ragazzi, la musica ci caricherà abbastanza. Allora, non so, non lo so quanti cardinali affrontare in questo episodio. So solo che faremo del nostro meglio per sconfiggerne il più possibile. Ragazzi, non so dopo i cardinali cosa ci attenda, ma sono sicuro che ci potrebbe essere, e dico di sì, ne sono sicuro, il campione che noi non conosciamo. Almeno non sappiamo di cosa si tratti. Ragazzi, Ipernova va a shottare il povero... E contro Cleidol io direi di fare un altro Ipernova, tanto siamo fortissimi. Tiè. Tra l'altro l'animazione è cambiata, vedete, rispetto al precedente episodio. Non so, credo che a volte si bughi, vero? Attenzione, mossa terra su Trishot. No, bene, Rogodenti, attenzione ci va di ricaricato. E di nuovo, vai, Rogodenti, masticatelo tutto, vai. Ole. E siamo più veloci, quindi ancora Rogodenti. Molto bene. E due Pokémon del Cardinale Chua sono andati. Siamo quasi a livello 70. Arox 71. Copagricus 68. E mando in campo Tapu Fini. Hatz, bella sfida. Rexquim, vai. Ho capito che utilizza Pokémon non di tipo erba. Tapu Fini. Tosso Tapu Fini, vediamo un po'. Ma io non me lo ricordavo così Tapu Fini, raga. Ma che forma è? Oddio, è stranissimo. Proviamo con Osso Tetro. Vediamo quanto gli riusciamo a fare. Lui continua con Nero Pulsar. Vediamo con Ripicca quanto gli facciamo. Ole. Mamma mia, brutto colpo. Nice. Recupera energia grazie alla Bacca Cedro. E ancora Ripicca. Ricarica Tot, però, sei fastidioso, eh. Attenzione, attacchiamo di nuovo. Nemmeno troppo. Ancora Ripicca. Nero Pulsar. Con brutto colpo gli abbiamo fatto veramente male. È che non conosco il tipo, ragazzi. Non ne ho idea. 115 diviso 2. 73. 714. Ok, abbiamo uno scarto di praticamente 30 PS. Ma attacchiamo per primi. Quindi Ripicca, butta giù. Tapufini. Tapufini che è inaspettatissimo. Bravo Rexquiem. Voglio usare tutto il mio team contro questi cardinali. Vai. Hanchen. A livello 84. Impressionante. E il gatto mistico. Pokémon. Psico. Sicuramente. Vai. Ole. Oltraggio. Lo butta giù. Molto facilmente. Trishop. A livello 70. E manda Nebiura. Questo è nuovo. Wow, ragazzi. Che cos'è? Un alieno. Wow. Ma che bestia. Che però sconfiggiamo facilmente. Ecco. Hanchen. Bene, ragazzi. Abbiamo sconfitto Chua. Il primo cardinale. Veramente inaspettato quel Tapufini, eh. Ma tanto ha teso la venuta di un messia. Domandandomi se fosse realmente all'altezza del compito cui la sorte lo aveva destinato. Ora che ho potuto provarlo sulla mia pelle, però ogni dubbio è stato svanito completamente. Federick, meriti davvero di freggiarti del nome del prescelto. Tuttavia, io non sono che il primo degli avversari che affronterai oggi. Sfide arduo e ti attendono ancora su questi monti. Sarà bene placare mente e spirito prima di proseguire. E il primo è andato. Si prosegue, ragazzi, di qua. Vediamo il prossimo. Uhuh. Hype a mille, eh. Ancora. Dobbiamo scalare questa vetta. Vai. Su. 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 Dobbiamo anche curarci, ragazzi, perché ci ha fatto male Chua, eh. Invece che Chua direi Chitua proprio. Andiamo su. Vedo delle lanterne di colore azzurro. E nevica. Sarà proprio il cardinale che abbiamo incontrato all'inizio percorso della via vittoria? Sempre se era un cardinale? Dicevo che veniva da nord. E infatti, secondo me, sarà proprio lei. Quindi, con questo predict, io lascerei Treeshot per primo. Vediamo? Senza curarci. È lei, signori. È lei. Castalia. Sei arrivato alla fine. Secondo lei, siamo arrivati alla fine? E questi Avaluk. Chi se lo aspettava che fossi tu il prescelto? Di cui si fa un gran parlare. Io sono Castalia, dieta di fare la tua conoscenza. Ehm, come dire? Brrrr, che freddo. Un brivido percorre la mia schiena al pensiero che Luxflon ci abbia voluti entrambi qui. Il nostro è un incontro dettato dal destino. Sarò anche la più giovane tra tutti i cardinali. Ma non per questo non adempierò a dovere al mio compito. Vedrai, la mia freddezza ti lascerà come una statua di ghiaccio. Fatti sotto. Castalia. Secondo cardinale della regione di Heldew. Parte la sfida. Avaluk. Oddio, che predict. Veramente sembravano degli Avaluk. Ok. Risha. DJ Valve. Allora, signori. Andiamoci di Ipernova. Anche se potevo benissimo fare una mossa fuoco. Ma non mi voglio levare troppo i PS con fuoco carica. Quindi, se posso, uso tranquillamente la mossa suono. Quindi, il prossimo Pokémon sarà... Bertic. Non so se ce la farà il mio trishot ad arrivare alla fine, sapete? Perché... Eh, a forza di... Levarmi vita con la grandine, potrebbe perdere tutti i PS prima dell'ultimo scontro. Quindi, ci proviamo. Brutto colpo di rogodenti. Mamma mia, quanto siamo forti. Wow. Signori, ancora... Tre Pokémon per Castiglia. Il prossimo sarà... Tapulele! Oddio, ragazzi! Allora, veramente! Oddio, guardate di ghiaccio! Boia! Fuoco carica. Questo li faccio fuoco carica, perché... Guardate che roba! Super efficace! E lo shotto! Leggendario! Bello, Tapulele, eh. Bellissimo, signori. Mazzo! Molto più bello di quell'altro. Vi faccio presente che noi due cardinali già li abbiamo incontrati, eh. Nei precedenti episodi. Attenzione a Bora! Attenzione! Mamma mia, ragazzi! Secondo me questa è l'ultima sfida di Trishot. Dopodiché ci muore. Non lo shottiamo nemmeno! Aia! Allora, semplicemente non voglio farmelo morire. Non sarebbe giusto. Tanto anche l'avversario userà il ricaricatot. E stavo dicendo. Gli altri cardinali che dovremo affrontare dopo... Li abbiamo appunto già incontrati. Quindi lui usa il ricaricatot. Questo lo uso anch'io. Dovrebbe esserci, se non sbaglio... Quello di tipo Drago, che ci ha dato Skaleon. E poi l'Indiano, teoricamente. Allora, se Rogue Denty non riusciva a buttarlo giù, Fuoco Carica ce la dovrebbe fare. Vediamo. Sì! Vai! E Sasquatch è stato sconfitto. Vai! Pensavo di metterci di più, eh. Con questi cardinali, invece. Mando in campo Wallerain. Contro Wallerain, ragazzi, mando un Pokémon che ancora non ho mandato in campo durante questa sfida ai cardinali. Ed è Kiki. Chigami, che ha sconfitto un Pokémon incredibile. Quale Dragalisk. Il re dell'Oxinoverse. Quindi, ragazzi, andiamoci di spada solenne. Mossa lotta per forza contro di lui. E ce la dovremmo fare. Vai! Shuttato! Ciao, Lorelei. Eh, volevo dire Wallerain. Vai. Abbiamo avuto una bella su Castaglia. Forse il cardinale più facile finora? Se è vero che il freddo conserva, spero faccia sì che non me ne dimentichi. Lascia che ti dica una cosa. Nessun fiocco di neve sarà mai uguale ad un altro. Ma sarà comunque splendido in egual modo. Tienilo ben a mente e continua a farti strada. Gli altri cardinali ti stanno aspettando. Ragazzi, Castaglia è stata sconfitta. Abbiamo altri cardinali. Se non sbaglio, c'è Oleandro. Che tra l'altro usa il tipo Drago. Quindi, quale sfida migliore per usare il mio Hanschen contro di lui? Sto usando un po' tutto il mio team. Finora l'unico che non ho usato è Cofagrigus. Ma perché semplicemente non ce n'è bisogno. Invece no. Non c'è Oleandro, ma secondo me c'è proprio l'Indiano. Quindi vediamo un po' se c'è quest'Indiano. Qui? Allora, se c'è l'Indiano non ho la minima idea di che Pokémon utilizzi. Quindi proviamo a lasciare Cofagrigus per primo. Perché mi sa tanto di Pokémon roccia o terra. Quindi sì, indiano. Oh vento, attenzione perché ho visto un vortice. Vabbè, non c'è un problema perché usa mosse e roccia. Quindi va bene lo stesso il mio Cofagrigus. Vedete? C'è un vortice che blocca il passaggio. Bellissima. Ok, peiote. Sapete? Prima di diventare cardinale ho girato il mondo in lungo e in largo. Volevo sapere quali meraviglie si nascondessero al di là dell'arido canyon asteroide. Fitte foreste, fiumi impetuosi, vasti oceani, vette nevate. Ecco cosa ci riserva la natura. Ogni giorno renderò grazie all'essere di luce per avermi concesso di ammirare queste meraviglie. E ora che ho finalmente l'occasione di ripagare tutto questo, non me la lascerò scappare. Sta a vedere nonno, il tuo peiote sta per prendere il volo. Volo, non ci ho pensato, effettivamente con le piume, il tipo volante, eh, non ci ho pensato. Vabbè, ho ragionato solo sul territorio. Vabbè. Scarmoli. Ah. Cofagrigus ce la farà? Secondo me no, però ci setta le punte. Vediamo Cofagrigus cosa riesce a fare. Comunque leva, eh. Forse sapete che con idroampata riesco a shottarlo? Oh sì, 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 bravo Cofagrigus. Dato che Cofagrigus non è un Pokémon che ho utilizzato molto, anzi per niente, lo sfruttiamo ora qua contro i cardinali. Così che, insomma, voglio usare un po' tutti i miei Pokémon del team, come giusto che sia. Più vischio, mi fai solo un favore. Forza antica, è più veloce tuono, aia. Eh, questo raga lo sentiamo. Oh sì, se lo sentiamo anche perché non fallisce mai tuono, eh. Però anche noi, secondo me, li facciamo male, ma non abbastanza. Forse però dovrebbe usare una ricarica tot, ci proviamo? Niente, ancora bazzia. Va bene ragazzi, ci abbiamo provato. Eh, vabbè. Bravo Cofagrigus, hai dato il tuo contributo. Dovevo curarti Cofagrigus. Allora, se lui manda Arrok, io potrei mandare tranquillamente. O a mia volta Arrok o Anchen. Sta di fatto che con tripuiamo un volante, Arrok sarebbe perfetto. Ma non lo so, vediamo. Attenzione alle punte e Codadrago. Usare carica tot, ma secondo me con Codadrago dovremmo comunque riuscire a sconfiggere. Al massimo ritiriamo dentro qualcun altro, infatti. E manda... Tapu Koko! Wow! Volante? Aia. La pioggia risana Anchen. Quindi questa è la sfida adatta ad Anchen. Perché ragazzi, avendo pelle arsa ogni volta è sicura. Ed è una bomba perché recupera veramente tanti, tantissimi PS. Dai! Quanto li facciamo? Lo shot. Ah, mamma mia! Ma che è un po' Koko! Ok. Kiki livello 80. Trishot 71. Guardate quanti PS, raga. Tantissimi. C'è più di 30. E a braviare. Ancora oltraggio, vai. Così. Wow! Che bestia Anchen. La differenza di livelli è tantissima però, insomma. E manda Xatu! Sì? Non abbiamo ancora giocato il nostro Harrock, quindi direi che è arrivato il turno di mettere lui. Così che, insomma, li giochiamo tutti perché è importante. Ragazzi, mi raccomando, mi piace, eh? Se ancora non l'avete fatto. Dai, eh. Scintilla. E anche lui mi sa che ci saluta, eh? Sì. Oh, così ho usato anche Harrock. È bello avere un team vario con tutti i tipi di mosse stabbate. E il prossimo sarà di nuovo Harrock. Quindi sfida finale, ragazzi. Harrock contro Harrock. Ok, chi vincerà? Direi che questo lo facciamo fuori con Aero Assalto che non fallisce. Che ne dite? Ma sì, dai, proviamo. Olè? Quanto gli facciamo? Tuono. Aia. Trespolo? Olè! Ancora tuono che non fallisce. E adesso concludiamo questa partita con un bel scintilla. Vai. Olè. Ce la dovremmo fare, eh? Teoricamente. Vediamo? Ma speriamo. Ok, no, un PS. Non ci voglio credere. È Assalto e ciao Harrock. Perfetto. Abbiamo sconfitto il Cardinale Pegliote, me sa, eh? Sì. Cardinale Pegliote. Ah. Mayday. Ho perso la rotta. Ah ah ah. Sì. Anche il rapace più violento non può nulla dinanzi a una tempesta. Ho dato tutto me stesso in questa lotta, ma voi avete dimostrato una forza senza uguali. Non mi aspettavo di meglio dall'allenatore prediletto di Luxplon. Cime più alte ora vi attendono. Coraggio, spiegate le ali e proseguite. Mamma mia ragazzi, spieghiamo queste ali. Allora, chi mettiamo davanti? Allora, sicuramente una revitalizzazione Max su Cofagrigus. E qualche pozione sparsa qua e là ci vogliono. Quindi una qua, una qua, una qua. Se ci manderà questo presunto tipo drago, Anchen per forza. A meno che non facciamo gli sboroni e mettiamo Kiki. Proviamo, proviamo con Chigami, dato che sono sempre Anchen così per avere una parità di livello. Tanto ragazzi, questo sarà l'ultimo. Dopodiché, se ci sarà un campione, lo faremo nel prossimo episodio. Eh, mi sa che è Oleandro, ecco. Eh, sì sì ragazzi. Eh, il clima è quello. Il clima è quello. Oh, guardate che atmosfera. Con tutti questi gas. Adoro. Mamma mia. Non possiamo proseguire. E quindi andiamo avanti. Mamma mia ragazzi, è lui. È lui. Oh, Oleandro. Attendevo il tuo arrivo prescelto. Mamma. E lui dovrebbe avere Tapu Bulu allora? Rimembro che fosse ieri l'altro giorno in cui le nostre strade si intrecciarono sulla vetta del vulcano Pulsar. All'epoca eri ancora inesperto, ma nelle stelle già si leggeva che eri destinato a compiere incredibili gesta. Pertanto, allora decisi di offrirti il mio aiuto. Ma ora il supremo Luxblom ha scelto per me un altro sentiero. Sarà mio dovere mettere alla prova il prescelto per obbligarlo ad attingere alla totalità del suo potenziale. Perciò su questo sacro monte, sulle cuivette, non è mai né giorno né notte per volere dell'altissimo. Io, Oleandro, ultimo dei cardinali, ti sottoporrò alla ferocia dei Pokémon Drago. E parte la sfida contro il vecchio Oleandro, vecchio Marpione. Ok, sì, dai, dai, che lo facciamo fuori. Tartnator. Chigami, tocca a te. Fai bella figura, eh. Mamma mia che brutta fine che fa tu, Chigami. Mamma mia. Proprio il tipo fuoco dovevano mandarti, eh. Ragazzi, Chigami si è impegnato, ma... Aia. Oh, fa male questo, eh. Bestia di Satra, muori? Porca vacca, eh. Ma? Livello 86? Sarebbe stato bello arrivare a livello 100. Ok. Il prossimo sarà Tapu Bulu. Tipo Drago, immagino. Vediamo come l'hanno fatto. Ohia. Che è un totem. Vai, oltraggio. Vediamo se riusciamo a farlo fuori con un colpo. Ah, ok. Fatti fuori facili, eh. Vediamo se ha qualche Pokémon che non conosciamo. Ascalion, eccolo, ragazzi. Finalmente lo vediamo in campo. Ma Anchen troppo OP. E Anchen troppo forte. Ah, 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 ah. Eh, mi dispiace, Oleandro. Eh, sto io il tipo Drago per eccellenza. Lo sa, io, voglio dire, discendo dalla stirpe di Lengs. Quindi, poi fa niente. E ancora oltraggio anche su Axfus. Cioè, non si ferma più. Anchen non si ferma più. È una macchina da guerra, questo coccodrillo. Ok, ora è confuso Anchen. Quindi vediamo se fa più della tripletta. Il prossimo sarà, vediamo un po'. Dragonite. Oddio, Dragonite. Ai, 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 ai. Quanto diamine forte, ragazzi, Dragonite, eh. Anche a livello 63. L'abbiamo perforato! Oddio, un getto l'ha perforato. Povero Dragonite. Povero Dragonite. Oddio, era così facile con... Mentre gli shout. A nienta Draghi. Colui che non lascia che il capitale peccato dell'ira lo stringa tra le sue strette fauci, ma al contrario, è in grado di imbrigliarlo, senza rinunciare al suo impeto dirompente, pari a quello di un vulcano. Questa è la linea di confine che separa l'uomo comune da un degno prescelto. Federic, sfidandoti, noi quattro cardinali abbiamo assolto al compito cui eravamo destinati. E allora va! Volgi il tuo sguardo sulla terra che proteggi dalla cima del monte che la sovrasta. La vetta degli dèi è tua! Ragazzi, la vetta degli dèi. Cioè, ci siamo. Ci siamo. Andiamo a questa vetta degli dèi, allora. L'ultima sfida. L'ultimissima. Uh! Si accendono! Si accendono! E vedo la luce, ragazzi. Vedo la luce. Io allora... Non posso fare altro, mi devo fermare. Perché, ragazzi, io sono curioso di scoprire cosa ci attende. Ma ci vediamo domani! Ragazzi, un like, un commento, iscriviti al canale. Guarda, io non ho parole. Gran, gran episodio, eh. Finalmente abbiamo scoperto i Pokémon dei cardinali. A domani, raga, con l'ultimo. Chi sarà? Ciao!